Nuovo Testamento Matteo, capitolo primo Geneologia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide Abramo generò Isacco Isacco generò Giacobbe Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli Giuda generò Fares e Zara da Tamar Fares generò Esdrom Esdrom generò Aram Aram generò Aminadab Aminadab generò Nasson Nasson generò Salmon Salmon generò Boz da Rahab Boz generò Obed da Ruth Obed generò Iesse E Iesse generò Davide il re Davide generò Salomone da quella che era stata moglie Duria Salomone generò Roboamo Roboamo generò Abia Abia generò Asa Asa generò Giosafat Giosafat generò Ioram Ioram generò Uzziah Uzziah generò Iohatam Iohatam generò Akaz Akaz generò Ezechia Ezechia generò Menasse Menasse generò Amon Amon generò Giosia Giosia generò Iekonia E i suoi fratelli E i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia E dopo la deportazione in Babilonia Iekonia generò Salatier Salatier generò Zerobabel Zerobabel generò Abiud Abiud generò Eliakim Eliakim generò Azor Azor generò Sadok Sadok generò Akim Akim generò Eliud Eliud generò Eleazero Eleazero generò Matan Matan generò Giacobbe Giacobbe generò Giuseppe il marito di Maria dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo Così da Abramo fino a Davide sono in tutto quattordici generazioni E da Davide fino alla deportazione in Babilonia Quattordici generazioni E dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo Quattordici generazioni Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe E prima che fossero venuti a stare insieme Si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo E Giuseppe suo marito Essendo uomo giusto E non volendo esporla d'infamia Si propose di lasciarla occultamente Ma mentre aveva queste cose nell'animo Ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno Dicendo Giuseppe figliuolo di Davide Non temeri di prendertè con Maria tua moglie Perché ciò che in lei è generato È dallo Spirito Santo Ed ella partorirà un figliuolo E tu gli porrai nome Gesù Perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati Or tutto ciò avvenne Affinché si adempisse quello che era stato detto Dal Signore per mezzo del profeta Ecco la Vergine sarà incinta E partorirà un figliuolo Al quale sarà posto nome Emanuele Che interpretato Vuol dire Il Dio con noi E Giuseppe destatosi dal sonno Fece come l'angelo del Signore Gli aveva comandato E prese con sé sua moglie E non la conobbe Finché la Non ebbe partorito un figlio E gli pose nome Gesù Matteo Capitolo Secondo Or essendo Gesù nato In Bethlehem di Giudea Ai dì del re Erode Ecco dei magi d'Oriente Arrivarono in Gerusalemme Dicendo Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto La sua stella in Oriente E siamo venuti per adorarlo Odito questo Il re Erode fu turbato E tutta Gerusalemme con lui E radunati tutti i capi sacerdoti E gli scribi del popolo Si informò da loro Dove il Cristo doveva nascere Ed essi gli dissero In Bethlehem di Giudea Poiché così è scritto per mezzo del profeta E tu Bethlehem Terra di Giuda Non sei punto la minima Fra le città principali di Giuda Perché da te uscirà un principe Che pascerà il mio popolo Israele Allora Erode Chiamati di nascosto i magi Si informò esattamente da loro Del tempo in cui la stella era apparita E mandandoli a Bethlehem Disse loro Andate e domandate diligentemente Del fanciullino E quando lo avrete trovato Fatemelo sapere Affinché io pure venga ad adorarlo Essi dunque Udito il re Partirono Ed ecco la stella che avevano veduto in oriente Andava dinanzi a loro Finché giunta al luogo Dov'era il fanciullino Vi si fermò sopra Ed essi Veduta la stella Si rallegrarono di grandissima allegrezza Ed entrati nella casa Videro il fanciullino con Maria sua madre E prostratisi lo adorarono Ed aperti i loro tesori Gli offrirono dei doni Oro Incenso E mirra Poi essendo stati divinamente avvertiti In sogno Di non ripassare da Erode Per altra via Tornarono A loro paese Partiti che furono Ecco un angelo del Signore Apparve in sogno a Giuseppe E gli disse Levati Prendi il fanciullino e sua madre E fuggi in Egitto E stacquivi Finché io non te il dica Perché Erode Cercherà il fanciullino Per farlo morire Egli dunque Levato si prese di notte Il fanciullino e sua madre E si ritirò in Egitto Ed i vistette fino alla morte di Erode Affinché si adiempisse Quello che fu detto Dal Signore per mezzo del profeta Fuori d'Egitto Chiamai il mio figliuolo Allora Erode Vedutosi beffato dai magi Si adirò gravemente E mandò ad uccidere Tutti i maschi Che erano in Bethlehem In tutto il suo territorio Dall'età di due anni in giù Secondo il tempo del quale S'era esattamente informato Dai magi Allora si adempiè Quello che fu detto Per bocca del profeta Geremia Un grito è stato udito In rama Un pianto E un lamento Grande Rachele piange I suoi figliuoli E ricusa Ad essere consolata Perché Non son più Ma dopo che Erode fu morto Ecco un angelo del Signore Apparve in sogno A Giuseppe In Egitto E gli disse Levati Prendi il fanciullino E sua madre E vattene nel paese D'Israele Perché son morti Coloro che cercavano La vita del fanciullino Ed egli levato Si prese il fanciullino E sua madre Ed entrò nel paese D'Israele Ma udito che in Giudea Regnava Archelao Invece D'Erode Suo padre Temette D'andare Colà Ed essendo stato Divinamente avvertito In sogno Si ritirò Nelle parti Della Galilea E venne ad abitare In una città Detta Nazareth Affinché si adempisse Quello che era stato detto Dai profeti Che egli sarebbe chiamato Nazareo Matteo Capitolo terzo Or in quei giorni Comparve Giovanni Il Battista Predicando nel deserto Della Giudea E dicendo Ravvedetevi Poiché il regno Dei cieli È vicino Di lui parlò Infatti Il profeta Esaia Quando disse V'è una voce Ed uno Che grida nel deserto Preparate la via Del Signore Addrizzate I suoi sentieri Or esso Giovanni Aveva il vestito Di pelo Di cammello Ed una cintura Di cuoio Intorno a fianchi E il suo cibo Erano locuste E miele selvatico Allora Gerusalemme E tutta la Giudea E tutto il paese D'intorno al Giordano Presero ad accorrere A lui Ed erano Battezzati da lui Nel fiume Giordano Confessando I loro peccati Ma vedendo Egli Molti Dei farisei E dei sadducei Venire al suo Battesimo Disse loro Razza di vipere Chi va insegnato A fuggire Dall'ira a venire Fate dunque Dei frutti Degni Del ravvedimento E non pensate Di dentro di voi Abbiamo per padre Abramo Perché io vi dico Che Dio Può da queste pietre Far sorgere Dei figliuoli Ad Abramo E già la scure E posta La radice Degli alberi Ogni albero Dunque Che non fa Buon frutto Sta per essere Tagliato E gittato Nel fuoco Ben Vi battezzo Io con acqua In vista Del ravvedimento Ma colui Che viene Dietro a me È più forte Di me Ed io Non son degno Di portargli I calzari Egli vi Battezzerà Con lo spirito Santo E con fuoco Egli Ha il suo Ventilabro In mano E netterà Interamente L'aia sua E raccoglierà Il suo grano Nel granaio Ma arderà La pula Con fuoco Inestinguibile Allora Gesù Dalla Galilea Si recò Al Giordano Da Giovanni Per essere Da lui Battezzato Ma questi Vi si opponeva Dicendo Son io Che ho bisogno D'esser Battezzato Da te E tu Vieni a me Ma Gesù Gli rispose Lascia fare Per ora Poiché Conviene Che noi Edempiamo Così Ogni giustizia Allora Giovanni Lo lasciò Fare E Gesù Tosto Che fu Battezzato Salì fuori Dell'acqua Ed ecco I cieli Si apersero Ed egli Vide lo Spirito Di Dio Scendere Come una Colomba E venire Sopra Lui Ed ecco Una voce Dai cieli Disse Questo È il mio Diletto Figliuolo Nel quale Io mi Son Compiaciuto Matteo Capitolo Quarto Allora Gesù Fu condotto Dallo Spirito Su Nel Deserto Per Essere Tentato Dal Diavolo E dopo Che Ebbe Digiunato Quaranta Giorni E Quaranta Notte Alla Fine Ebbe Fame E Il Tentatore Accostatosi Gli Disse Se Tu Sei Figliuolo Di Dio Di Che Queste Pietre Divengan Pani Ma Egli Rispondendo Disse Sta Scritto Non Di Pane Soltanto Vivrà L'Uomo Ma D'ogni Parola Che Precede Dalla Bocca Di Dio Allora Il Diavolo Lo Menò Secco Nella Santa Città E Lo Pose Sul Pinacolo Del Tempio E Gli Gettati Giù Poiché Sta Scritto Egli Darà Ordine Ai Suoi Angeli Intorno A Te Ed Essi Ti Porteranno Sulle Loro Mani Che Talora Tu Non Urti Col Piede Contro Una Pietra Gesù Gli Disse Egli E Altresì Scritto Non Tentare Il Signore Dio Tuo Di Nuovo Il Diavolo Lo Menò Secco Sopra Un Monte Altissimo E Gli Mostrò Tutti I Regni Del Mondo E La Lor Gloria E Gli Disse Tutte Queste Cose Io Te Le Darò Se Prostrandoti Tu Mi Adorerai Allora Gesù Gli Disse Va Satana Poiché Sta Scritto Adora Il Signore Dio Tuo Ed A Lui Solo Rendi Il Culto Allora Il Diavolo Lo Lasciò Ed Ecco Degli Angeli Vennero A Lui E Avendo Dito Che Giovanni Era Stato Messo In Prigione Si Ritirò In Galilea E Lasciata Nazare Venne Ad Abitare In Capernaum Città Sul Mare Ai Confini Di Zabulon E Di Neftali Affinché Si Adempisse Quello Che Era Stato Detto Dal Profeta Isaia Il Paese Di Zabulon E Il Paese Di Neftali Sulla Via Del Mare Al Di Là Del Giordano La Galilea Dei Gentili Il Popolo Che Giasceva Nelle Tenebre Ha Veduto Una Gran Luce Su Quelli Che Giascevano Nella Contrada E Nell'Ombra Della Morte Una Luce S'E Levata Da Quel Tempo Gesù Cominciò A Predicare E A Dire Ravvedetevi Poiché Il Regno Dei Cieli È Vicino Or Passeggiando Lungo Il Mare Della Galilea Egli vide Due Fratelli Simone Detto Pietro E Andrea Suo Fratello I Quali Gettavano La Rete In Mare Perché Erano Pescatori E Disse Loro Venite Dietro A Me E Vi Farò Pescatore D'uomini Ed Essi Lasciate Prontamente Le Reti Lo Seguirono E Passato Più Oltre Vide Due Altri Fratelli Giacomo Di Zebedeo E Giovanni Suo Fratello I Quali Nella Barca Con Zebedeo Loro Padre Rassettavano Le Reti E Li Chiamò Ed Essi Lasciata Subito La Barca E Il Padre Loro Lo Seguirono E Gesù Andava Attorno Per Tutta La Galilea Insegnando Nelle Loro Sinagoge E Predicando L'Evangelo Del Regno Sanando Ogni Malattia Ed Ogni Infermità Fra Il Popolo E La Sua Fama Si Sparse Per Tutta La Siria E Gli Recarrono Tutti I Malati Colpiti Da Varie Infermità E Da Vari Dolori Indemoniati Lunatici E Paralitici Ed E Dei Li Guari E Grandi Folle Lo Seguirono Nella Galilea E Dalla Decapoli E Da Gerusalemme E Dalla Giudea Ed Cominciamo Il Capitolo Quinto Dal Vangelo Di San Matteo E Gesù Vedendo Le Folle Salì Sul Monte E Postosi A Sedere I Suoi Discepoli Si Accostarono A Lui Ed Egli Aperta La Bocca Li Ammaestrava Dicendo Beati I Poveri In Spirito Perché Di Loro È Il Regno Dei Cieli Beati Quelli Che Fanno Cordoglio Perché Essi Saranno Consolati Beati Mansueti Perché Essi Erederanno La Terra Beati Quelli Che Sono Affamati Ed Assetati Della Giustizia Perché Essi Saranno Saziati Beati I Misericordiosi Perché A Loro Misericordia Sarà Fatta Beati I Puri Di Cuore Perché Essi Vedranno Il Dio Beati Quelli Che S' Adoperano Alla Pace Perché Essi Saranno Chiamati Figliuoli Di Dio Beati Perseguitati Per Cagion Di Giustizia Perché Di Loro È Il Regno Dei Cieli Beati Voi Quando Voltrageranno E Vi Perseguiteranno E Mettendo Diranno Di Soprò Di Soprò Di Cagion Mia Rallegratevi E Giubilate Perché Il Vostro Premio È Grande Nei Cieli Poiché Così Han Perseguitato I Profeti Che Sono Stati Prima Di Voi Siete Il Sale Della Terra Ora Se Il Sale Diviene Insipido Con Che Lo Si Salerà Non È Più Buono A Nulla Se Non Ad Essere Gettato Via E Calpestato Dagli Uomini Voi Siete La Luce Del Mondo Una Città Posta Sopra Un Monte Non Può Rimanere Nascosta E Non Si Accende Una Lampada Per Metterla Sotto Il Moggio Anzi La Si Mette Sul Candeliere Ed La Fa Lume A Tutti Quelli Che Sono In Casa Così Risplenda La Vostra Luce Nel Cospetto Degli Uomini Affinché Veggano Le Vostre Buone Opere E Glorifichino Il Padre Vostro Che Nei Cieli Non Pensate Che Io Sia Venuto Per Abolire La Legge O Di Profeti Io Son Venuto Non Per Abolire Ma Per Compiere Poiché Io Vi Dico In Verità Che Finché Non Son Passati Il Cielo Tutto Non Sia Adempiuto Chi Dunque Avrà Violato Uno Di Questi Minimi Comandamenti Ed Avrà Insegnato Così Agli Uomini Sarà Chiamato Minimo Nel Regno Dei Cieli Ma Chi Li Avrà Messi In Pratica Ed Insegnati Esso Sarà Chiamato Grande Nel Regno Dei Cieli Poiché Io Vi Dico Che Se La Vostra Giustizia Non Supera Quella Degli Scrivi E Dei Farisei Voi Non Entrerete Punto Nel Regno Dei Cieli Voi Avete Udito Che Fu Detto Agli Antichi Non Uccidere E Chiunque Avrà Ucciso Sarà Sottoposto Al Tribunale Ma Io Vi Dico Chiunque Si Adira Contro Al Suo Fratello Sarà Sottoposto Al Tribunale E Chi Avrà Detto Al Suo Fratello Raca Sarà Condannato Alla Geenna Del Fuoco Se Dunque Tu Stai Per Offrire La Tua Offerta Sull' Altare E Quivi Ti Ricordi Il Tuo Fratello Che Ha Qualche Cosa Contro Di Te Lascia Quivi La Tua Offerta Dinanzi All' Altare E Va Prima A Riconciliarti Col Tuo Fratello E Poi Vieni Ad Offrire La Tua Offerta Fa Presto Amichevole Accordo Lui Che Talora Il Tuo Avversario Non Ti Dia In Man Del Giudice E Il Giudice In Mano Delle Guardie E Tu Sii Cacciato In Prigione Io Ti Dico In Verità Che Di Là Non Uscirai Finché Tu Non Abbia Pagato L'ultimo Quattrino Voi Avete Udito Che Fu Detto Non Commettere Adulterio Ma Io Vi Dico Che Chiunque Guarda Una Donna Per Appetirla Ha Già Commesso Adulterio Con Lei Nel Suo Cuore Ora Se L'Occhio Tuo Destro Ti Fa Cadere In Peccato Cavalo E Gettalo Via Da Te Poiché Val Meglio Per Te Che Uno Dei Tue Membri Perisca E Non Si Gettato Nell'intero Tuo Corpo Nella Geenna E Se La Tua Mandestra Ti Fa Cadere In Peccato Mozzala E Gettala Via Da Te Poiché Val Meglio Per Te Che Uno Dei Tue Membri Perisca E Non Vada L'intero Tuo Corpo Nella Geenna Fu Detto Chiunque Ripudia Sua Moglie Le Dia Atto Di Divorzio Ma Io Vi Dico Chiunque Manda Via La Moglie Salvo Che Per Cagion Di Fornicazione La Fa Essere Adultera E Adulterio Voi Avete Udito Pure Che Fu Detto Agli Antichi Non Isper Giurare Ma Tienti Al Signore Coi Tuoi Giuramenti Ma Io Vi Dico Del Tutto Non Giurate Né Per Il Cielo Perché Il Trono Di Dio Né Per La Terra Perché Lo Sgabello Dei Suoi Piedi Né Per Gerusalemme Perché La Città Del Gran Re Non Giurar Neppure Per Il Tuo Capo Poiché Tu Non Puoi Fare Un Solo Capello Bianco O Nero Ma Sia Il Vostro Parlare Sì Sì No No Poiché Di Più Vien Dal Maligno Voi Avete Udito Che Fu Detto Occhio Per Occhio E Dente Per Dente Ma Io Vi Dico Non Contrastate Al Malvagio Anzi Se Uno Ti Percuote Sulla Guancia Destra Porgili Anche L'altra Ed A Chi Vuol Litigare Teco E Toglierti La Tunica Lasciali Anche Il Mantello E Se Uno Ti Vuol Costringere A Far Seco Un Miglio Fanne Con Lui Due Da A Chi Ti Chiede E A Chi Desidera Da Te Un Prestito Non Voltare Le Spalle Voi Avete Udito Che Fu Detto Ama Il Tuo Prossimo E Odia Pregate Per Quelli Che Vi Perseguitano Affin Che Siate Figlioli Del Padre Vostro Che Nei Cieli Poiché Egli Fa Levare Il Suo Sole Sopra I Malvagi E Sopra I Buoni E Fa Piovere Sui Giusti E Sugli Ingiusti Se Infatti Amate Quelli Che Vi Amano Che Premio Ne Avete Non Fanno Anche I Pubblicani Lo Stesso E Se Siate Perfetti Come Perfetto E Il Padre Vostro Celeste Ed Ora Leggiamo Il Sesto Capitolo Del Vangelo Di San Matteo Guardatevi Dal Praticare La Vostra Giustizia Nel Cospetto Degli Uomini Per Essere Osservati Da Loro Altrimenti Non Ne Avrete Premio Presso Il Padre Vostro Che Ne Cieli Quando Dunque Fai Limosina Non Far Suonarla Tromba Dinanzi A Te Come Fanno Gli Ipocriti Nelle Sinagoge Nelle Strade Per Essere Onorati Dagli Uomini Io Vi Dico In Verità Che Codesto È Il Premio Che Ne Hanno Ma Quando Tu Fai Limosina Non Sappia La Tua Sinistra Quel Che Fa La Destra Affinché La Tua Limosina Si Faccia In Segreto E Il Padre Tuo Che Vede Pregate Non Siate Come Gli Ipocriti Poiché Essi Amano Di Fare Orazione Stando In Piene Le Sinagoge E Ai Canti Delle Piazze Per Essere Veduti Dagli Uomini Io Vi Dico In Verità Che Codesto È Il Premio Che Ne Hanno Ma Tu Quando Preghi Entra Nella Tua Cameretta E Serrato Nell' Uscio Fa Orazione Al Padre Tuo Che È Nel Segreto E Il Padre Tuo Che Vede Nel Segreto Te Ne Darà La Ricompensa E Nel Pregare Non Usate Sovverchie Dicerie Come Fanno I Pagani I Quali Pensano Di Essere Esauditi Per La Moltitudine Delle Loro Parole Non Li Rassomigliate Dunque Poiché Il Padre Vostro Sa Le Cose Di Cui Avete Bisogno Prima Che Gli Padre Nostro Che Sei Nei Cieli Sia Santificato Il Tuo Nome Venga Il Tuo Regno Sia Fatta La Tua Volontà Anche In Terra Come Fatta Nel Cielo Dacci Oggi Il Nostro Pane Quotidiano E Rimettici I Nostri Debiti Come Anche Noi Li Abbiamo Rimessi Ai Nostri Debitori E Non Ci Esporre Alla Tentazione Ma Liberaci Dal Maligno Perché Se Voi Perdonate Agli Uomini I Loro Falli Il Padre Vostro Celeste Perdonerà Anche A Voi Ma Se Voi Non Perdonate Agli Uomini Neppure Il Padre Vostro Perdonerà I Vostri Falli E Quando Digiunate Non Siate Mesti D'aspetto Come Gli Ipocriti Poiché Essi Sfigurano La Faccia Per Far Vedere Agli Uomini Che Odesto È Il Premio Che Ne Hanno Ma Tu Quando Digiuni Ungiti Il Capo E Lavati La Faccia Affinché Non Apparisca Agli Uomini Che Tu Digiuni Ma Al Padre Tuo Che È Nel Segreto E Il Padre Tuo Che Vede Nel Segreto Te Ne Darà La Ricompensa Non Vi Fate Tesori Sulla Terra Ove La Tignuola E La Ruggine Consumano E Dove I Ladri Sconfiggano E Rubano Ma Fatevi Tesori In Cielo Ove Ne Tignuola Ne Ruggine Consumano E Dove I Ladri Non Sconfiggano Ne Rubano Poiché Dov'è Il Tuo Tesoro Qui Vi Sarà Anche Il Tuo Cuore La Lampada Del Corpo È L'Occhio Se Dunque L'Occhio Tuo È Sano Tutto Il Tuo Corpo Sarà Illuminato Ma Se L'Occhio Tuo È Viziato Tutto Il Tuo Corpo Sarà Nelle Tenebre Se Dunque La Luce Che È In Te È Tenebre E Se Tenebre Quanto Grandi Saranno Nihuno Può Servire Due Padroni Poiché O Odierà L'uno Ed Amer L'altro O Si Atterrà All'uno E Sprezzerà L'altro Voi Non Potete Servire A Dio E Mammona Perciò Vi Dico Non Siate Quei Che Mangerete O Di Quei Che Berrete Né Per Il Vosso Corpo Di Che Vi Vestirete Non È La Vita Più Del Nutrimento E Il Corpo Più Del Vestito Guardate Agli Uccelli Del Cielo Non Seminano Non Mietano Non Raccolgono In Granai E Il Padre Vostro Celeste Li Nutrisce Non Siete Voi Assai Di Più Di Loro E Chi Di Voi Può Con La Sua Sollecitudine Aggiungere Alla Sua Statura Pure Un Cubito E Intorno Al Vestire Perché Siete Con Ansietà Solleciti Considerate Come Crescono I Gigli Della Campagna Essi Non Faticano E Non Filano E Pure Io Vi Dico Che Nemmeno Salomone Con Tutta La Sua Gloria Fu Vestito Come Uno Di Loro Or Se Dio Riveste In Questa Maniera L'erba Dei Campi Che Oggi È E Domani È Gettata Nel Forno Non Vestirà Egli Molto Più Voi O Gente Di Poca Fede Non Siate Dunque Con Ansietà Solleciti Dicendo Che Mangeremo Che Berremo O Di Che Ci Vestiremo Poiché Sono I Pagani Che Ricercano Tutte Quelle Cose Il Padre Vostro Celeste Sa Che Avete Bisogno Di Tutte Queste Cose Ma Cercate Prima Il Regno E La Giustizia Di Dio E Tutte Queste Cose Vi Saranno Sopraggiunte Non Siete Dunque Con Ansietà Solleciti Del Domani Poiché Il Domani Sarà Sollecito Di Se Stesso Basta A Ciascun Giorno Il Suo Affanno Matteo Capitolo Settimo Non Giudicate A Ciò Che Non Siate Giudicati Perché Col Giudizio Col Quale Giudicate Sarete Giudicati E Con La Misura Onde Misurate Sarà Misurato A Voi E Perché Guardi Tu Il Bruscolo Che Nell'occhio Del Tuo Fratello Mentre Non Iscorgi La Trave Che Nell'occhio Tuo Ovvero Come Potrai Tu Dire Al Tuo Fratello Lascia Che Io Ti Traga Dall'occhio Il Bruscolo Mentre Ecco La Trave Nell'occhio Tuo Ipocrita Trai Prima Dall'occhio Tuo La Trave E Allora Ci Vedrai Bene Per Trarre Il Non Date Ciò Che È Santo Ai Cani E Non Gettate Le Vostre Perle Dinanzi Ai Porci Che Talora Non Le Pestino Coi Piedi E Rivolti Contro A Voi Non Vi Sbranino Chiedete E Vi Sarà Dato Cercate E Troverete Picchiate E Vi Sarà Aperto Poiché Chiunque Chiede Riceve Chi Cerca Trova E Sarà Aperto A Chi Picchia E Qual È L'Uomo Fra Voi Il Quale Se Il Figliuolo Gli Chiede Un Pane Gli Dia Una Pietra Oppure Se Gli Chiede Un Pesce Gli Dia Un Serpente Se Dunque Voi Che Siete Balvagi Sapete Dar Buoni Doni Ai Vostri Figliuoli Quanto Più Il Padre Vostro Che Ne Cieli Darà Egli Cose Buone A Coloro Che Gliele Domandano Tutte Le Cose Dunque Che Voi Volete Che Gli Uomini Vi Facciano Fatele Anche Voi A Loro Perché Questa È La Legge Ed I Profeti Entrate Per La Porta Stretta Poiché Larga E La Porta E Spaziosa La Via Che Mena La Perdizione E Molti Son Quelli Che Entran Per Essa Stretta Invece La Porta Ed Angusta La Via Che Mena La Vita E Pochi Son Quelli Che La Trovano Guardatevi Dai Falsi Profeti I Quali Vengono A Voi In Veste Da Pecore Ma Dentro Son Voi Le Riconoscerete Da Loro Frutti Si Colgon Forse Delle Uve Dalle Spine O Dei Fichi Dai Triboli Così Ogni Albero Buono Fa Frutti Buoni Ma L'albero Cattivo Fa Frutti Cattivi Un Albero Buono Non Può Far Frutti Cattivi Ne Un Albero Cattivo Far Frutti Buoni Ogni Albero Che Non Fa Buon Frutto E Tagliato E Voi Le Riconoscerete Dunque Da Loro Frutti Non Chiunque Mi Dice Signore Signore Entrerà Nel Regno Dei Cieli Ma Chi Fa La Volontà Del Padre Mio Che Enne Cieli Molti Molti Mi Diranno In Quel Giorno Signore Signore Noi Abbiamo Profetizzato Nome Tuo E Nome Tuo Cacciato Demoni E Fatte Nome Tuo Molte Opere Potenti Allora Dichiarerò Loro Io Non Vi Conobbi Mai Dipartitevi Da Me Voi Tutti Operatori Di Iniquità Perciò Chiunque Ode Queste Mie Parole E Le Mette In Pratica Sarà Paragonato Ad un Uomo Avveduto Che Ha Edificata La Sua Casa Sopra La Roccia E La Pioggia E Caduta E Son Venuti Torrenti E I Venti Hanno Soffiato E Hanno Investito Quella Casa Ma Ella Non È Caduta Perché Era Fondata Sulla Roccia E Chiunque Ode Queste Mie Parole Non Le Mette In Pratica Sarà Paragonato Ad un Uomo Stolto Che Ha E Son Venuti Torrenti E I Venti Hanno Soffiato Ed Hanno Fatto Impeto Contro Questa Casa Ed Ella È Caduta E La Sua Rovina È Stata Grande Ed Avvenne Che Quando Gesù Ebbe Finito Questi Discorsi Le Turbe Stupivano Del Suo Insegnamento Perché Egli Le Ammaestrava Come Avendo Autorità E Non Come I Loro Scribi Matteo Capitolo Otto Or Quando Egli fu Sceso Dal Monte Molte Turbe Lo Seguirono Ed Ecco Un Lebroso Accostatosi Gli Si Prostrò Dinnanzi Dicendo Signore Se Tu Vuoi Tu Puoi Mondarmi E Gesù Stesa La Mano Lo Toccò Dicendo Lo Voglio Sii Mondato E In Quell' Istante Egli Fu Mondato Dalla Sua Lebra E Gesù Gli Disse Guarda Di Non Dirlo A Nessuno Ma Va Mostrati Al Sacerdote E Fa L'offerta Che Mosè Ha Prescritto E Ciò Serva Loro Di Testimonianza Or Quando Egli Fu Entrato In Capernaum Un Centurione Venne A Lui Pregandolo E Dicendo Signore Il Mio Servitore Giace Gravemente Tormentato Gesù Gli Disse Io Verò E Lo Guarirò Ma Il Centurione Rispondendo Disse Signore Io Non Sono Degno Che Tu Entri Sotto Al Mio Tetto Ma Di Soltanto Una Parola E Il Mio Servitore Sarà Guarito Poiché Anch'io Sono Un Uomo Sottoposto Ad Altri Ed Ho Sotto Di Me Dei Soldati E Dico A Uno Va Ed Egli Va E Ad Un Altro Vieni Ed E E Gli Viene E Al Mio Servo Fa Questo Ed E Gli Lo Fa E Gesù Dito Questo Ne Restò Meravigliato E Disse A Quelli Che Lo Seguivano Io Vi Dico In Verità Che In Nessuno In Israele Ho Trovato Cotanta Fede Or Io Vi Dico Che Molti Verranno Di Levante E Acqua e Giacobbe Nel Regno Dei Cieli Ma I Figlioli Del Regno Saranno Gettati Nelle Tenebre Di Fuori Qui Vi Sarà Il Pianto E Lo Stridor Dei Denti E Gesù Disse Al Centurione Va E Come Hai Creduto Siati Fatto E Il Servitore Fu Guarito In Quell' Stessa Poi Gesù Entrato Nella Casa Di Pietro Vide La Suocera Di Lui Che Giasceva In Letto Con La Febbre Ed Egli Le Toccò La Mano E La Febbre La Lasciò E La Si Alzò E Si Mise A Servirlo Poi Venuta La Sera Gli Si Presentarono Molti Indemoniati Ed Egli Con La Parola Scacciò Gli Spiriti E Guarituti Malati Affinché Si Edempisse Quel Che Fu Detto Per Bocca Del Profeta Isaia Egli Stesso Ha Preso Le Nostre Infermità E Ha Portato Le Nostre Malattie Or Gesù Vedendo Una Grande Folla Intorno A Sè Comandò Che Si Passasse All'altra Riva Allora Uno Scriba Accostatosi Gli Disse Maestro Io Ti Seguirò Dovunque Tu Andrai E Gesù Gli Disse Le Volpi Hanno Delle Tane E Gli Uccelli Del Cielo Dei Nidi Ma Il Figliuolo Dell'uomo Non Ha Dove Posare Il Capo Ed Un Altro Dei Discepoli Gli Disse Signore Permettimi D'andare Prima A Seppellire Mio Padre Ma Gesù Gli Disse Seguitami E Lascia I Morti Seppellire I Loro Morti Ed Essendo Egli Entrato Nella Barca I Suoi Discepoli Lo Seguirono Ed Ecco Farsi In Mare Una Così Gran Burrasca Che La Barca Era Coperta Dalle Onde Ma Gesù Dormiva E I Suoi Discepoli Accostatesi Lo Svegliarono Dicendo Signore Salvaci Siamo Perduti Ed Egli Disse Loro Perché Avete Paura O Gente Di Poca Fede Allora Levato Si Sgridò E Si Fece Gran Bonaccia E Quegli Uomini Ne Restarono Meravigliati E Dicevano Che Uomo E Mai Questo Che Anche I Venti E Il Mare Gli Ubitiscono E Quando Fu Giunto All'altra Riva Nel Paese Dei Gadareni Gli Si Fecero Incontro Due Indemoniati Usciti Dai Sepolcri Così Furiosi Che Nihuno Poteva Passare Per Quella Via Ed ecco Si Misero A Gridare Che V'è Fra Noi E Te Figliuolo Di Dio Sei Tu Venuto Qua Prima Del Tempo Per Tormentarci Or Lungi Da Loro Vera Un Gran Branco Di Porci Che Paceva E I Demoni Lo Pregavano Dicendo Se Tu Ci Scacci Mandaci In Quel Branco Di Porci Ed E Gli Disse Loro Andate Ed Esi Usciti Se Ne Andarono Nei Porci Ed Ecco Tutto Il Branco Si Gettò A Precipizio Giù Nel Mare E Perirono Nelle Acque E Quelli Che Li Pasturavano Fuggirono E Andati Nella Città Raccontarono Ogni Cosa E Il Fatto Degli Indemoniati Ed Ecco Tutta La Città Uscì Incontro A Gesù E Come Lo Videro Lo Pregarono Che Si Partisse Dai Loro Confini Adesso Leggiamo Il Capitolo Nono Nel Vangelo Di Matteo E Gesù Entrato In Barca Passò All'altra Riva E Venne Nella Sua Città Ed Ecco Gli Portarono Un Paralitico Stesso Sopra Un Letto E Gesù Veduta La Fe De Loro Disse Al Paralitico Figliuolo Sta Di Buon Animo I Tuoi Peccati Ti Sono Rimessi Ed Ecco Alcuni Degli Scribi Dissero Dentro Di Sè Costui Bestemmia E Gesù Conosciuti I Loro Pensieri Disse Perché Pensate Voi Cose Malvage Nei Vostri Cuori Poiché Che Cosa È Più Facile Dire I Tuoi Peccati Ti Sono Rimessi O Dire Levati E Cammina Ora Finché Sappiate Che Il Figliuolo Dell'uomo Ha Sulla Terra Autorità Di Rimettere I Peccati Levati Disse Al Paralitico Prendi Il Tuo Letto E Vattene A Casa Ed Egli Levatosi Se Ne Andò A Casa Sua E Le Turbe Veduto Ciò Furon Prese Da Timore E Glorificarono I Dio Che Aveva Data Cotale Autorità Agli Uomini Poi Gesù Partitosi Di Là Passando Vide Un Uomo Chiamato Matteo Che Sedeva Al Banco Della Gabella E Gli Disse Seguimi Ed E Egli Levatosi Lo Seguì E Avvenne Che Essendo Gesù A Tavola In Casa Di Matteo Ecco Che Molti Pubblicani E Peccatori Vennero E Si Misero A Tavola Con Gesù E Con Suoi Discepoli E I Il Vostro Maestro Mangia Coi Pubblicani E Coi Peccatori Ma Gesù Avendoli Uditi Disse Non Sono I Sani Che Hanno Bisogno Del Medico Ma I Malati Ora Andate Ed Imparate Che Cosa Significhi Voglio Misericordia E Non Sacrificio Poiché Io Non Son Venuto A Chiamare Dei Giusti Ma Dei Peccatori Allora Gli Saccostarono I Discepoli Di Giovanni Gli Dissero Perché Noi E I Farisei Digiuniamo E I Tuoi Discepoli Non Digiunano E Gesù Disse Loro Gli Amici Dello Sposo Possano Essi Far Cordoglio Finché Lo Sposo È Con Loro Ma Verranno I Giorni Che Lo Sposo Sarà Loro Tolto Ed Allora Digiuneranno Or Nuno Mette Un Pezzo Di Stoffa Nuova Sopra Un Vestito Vecchio Perché Quella Toppa Porta Via Qualcosa Dal Vestito E Lo Strappo Si Fa Peggiore Neppure Si Mette Del Vin Nuovo In Otri Vecchi Altrimenti Gli Otri Si Rompono E Il Vino Si Spande E Gli Otri Si Perdono Ma Si Mette Il Vin Nuovo In Otri Nuovi E L'un E Gli Altri Si Conserveranno Mentre Egli Diceva Loro Quelle Cose Ecco Uno Dei Capi Della Sinagoga Accostatisi S'inchinò Dinanzi A Lui E Gli Disse La Mia Figliuola E' Pur Ora Trapassata Ma Vieni Metti La Tua Mano Su Di Lei Ed Ella Vivrà E Gesù Alzatosi Lo Seguiva Coi Sui Discepoli Ed Ecco Una Donna Malata Ad Un Flusso Di Sangue Da Dodici Anni Accostatasi Per Di Dietro Gli Toccò Il L'embro Della Veste Poiché Diceva Fra Sè Sol Che Io Tocchi La Sua Veste Sarò Guarita E Gesù Voltatosi E Veduto La Disse Sta Di Buon Animo Figliuola La Tua Fede T'ha Guarita E Da Quell'ora La Donna Fu Guarita E Quando Gesù Fu Giunto Alla Casa Del Capo Della Sinagoga Ed Ebbe Veduto I Suonatori Di Flauto E La Moltitudine Che Faceva Grande Strepito Disse Loro Ritiratevi Perché La Fanciulla Non è Morta Ma Dorme E Si Ridevano Di Lui Ma Quando La Moltitudine Fu Messa Fu Egli Entrò E Prese La Fanciulla Per La Mano Ed Ella Si Alzò E Se Ne Divulgò La Fama Per Due Ciechi Lo Seguirono Gridando E Dicendo Abbi Pietà Di Noi O Figliuol Di Davide E Quando Egli Fu Entrato Nella Casa Quei Ciechi Si Accostarono A Lui E Gesù Disse Loro Credete Voi Che Io Possa Far Questo Ed Essi Gli Risposero Sì O Signore Allora Tocco Loro Gli Occhi Dicendo Sia Vi Fatto Secondo La Vostra Fede E Gli Occhi Loro Furono Aperti E Gesù Fece Loro Un Severo Divieto Dicendo Guardate Che Nihuno Lo Sappia Ma Quelli Usciti Fuori Sparsero La Fama Di Lui Per Tutto Il Paese Or Come Quei Ciechi Uscivano Ecco Che Li Fu Presentato Un Uomo Muto Indemoniato E Cacciato Che Fu Il Demonio Il Muto Parlò E Le Turbe Si Meravigliavano Dicendo Mai Non S'è Vista Cosa Tale In Israele Ma I Farisei Dicevano Egli Caccia I Demoni Per L'aiuto Dei Principe E Dei Demoni E Gesù Andava Intorno Per Tutte Le Città E Per I Villaggi Insegnando Nelle Loro Sinagoge Predicando L'Evangelo Del Regno E Sanando Ogni Malattia Ed Ogni Perché Erano Stanche Sfinite E Come Pecore Che Non Hanno Pastore Allora Egli Disse Ai Suoi Discepoli Ben E La Messe Grande Ma Pochi Sono Gli Operai Pregate Dunque Il Signor Della Messe Che Spinga Degli Operai Nella Sua Messe Matteo Capitolo Decimo Poi Chiamati A Sè I Suoi Dodici Discepoli Diede Loro Autorità Sopra Gli Spiriti Immondi Per Scacciarli E Per Guarire Qualunque Malattia E Qualunque Infermità Ora I Nomi Dei Dodici Apostoli Sono Questi Il Primo Simone Detto Pietro E Andrea Suo Fratello Giacomo Di Zebedeo E Giovanni Suo Fratello Filippo E Bartolomeo Tommaso E Matteo Il Pubblicano Giacomo Di Alfeo E Lebeo Soprannominato Taddeo Simone Il Canneo E Giuda Iscariota Quello Che Poi Lo Tradì Questi Sono I Dodici Che Gesù Inviò Dopo Aver Dato Loro Questi Ordini Non Andate Tra i Gentili E Non Entrate In Alcuna Città Dei Samaritani Ma Andate Piuttosto Alle Pecore Perdute Della Casa D'Israele Andate E Predicate Dicendo Il Regno Dei Cieli E Vicino Guarite Gli Infermi Mondate Lebrosi Risuscitate Morti Scacciate Demoni Gratuitamente Avete Ricevuto Gratuitamente Date Non Fate Provvista Di Oro Né Di Argento Né Di Denaro Nelle Vostre Cinture Né Di Sacca Da Viaggio Né Di Due Tuniche Né Di Calzari Né Di Bastone Perché L'Operaio È Degno Del Suo Nutrimento Ora In Qualunque Città O Villaggio Entrate Informatevi Se vi Sia Qualcuno Degno E Lì Rimanete Fino Alla Vostra Partenza E Quando Entrate Nella Casa Datele Il Vostro Saluto E Se Quella È Degna Venga La Vostra Pace Su Di Essa Ma Se Non È Degna La Vostra Pace Ritorni A Voi E Se Qualcuno Non Vi Riceve Non Ascolta Le Vostre Parole Uscendo Da Quella Casa O Da Quella Città Scuotete La Polvere Dei Vostri Piedi Vi Dico In Verità Che Nel Giorno Del Giudizio Il Paese Di Sodoma E Di Gamorra Sarà Trattato Con Più Tolleranza Di Quella Città Ecco Io Vi Mando Come Pecore In Mezzo Ai Lupi Siate Dunque Prudenti Come Serpenti E Semplici Come Colombe Ma Guardatevi Dagli Uomini Perché Vi Trascineranno Davanti E Loro Sinedri E Vi Fragilleranno Nelle Loro Sinagoge E Sarete Condotti Davanti A Governatori E Davanti A Re Per Causa Mia Per Dare Testimonianza A Loro E Ai Gentili Quando Essi Vi Metteranno Nelle Loro Mani Non Preoccupatevi Di Come Parlerete O Di Che Cosa Dovrete Dire Perché In Quella Stessa Ora Vi Sarà Dato Ciò Che Dovrete Dire Poiché Non Sarete Voi A Parlare Ma Lo Spirito Del Padre Vostro Che Parla In Voi Ora Il Fratello Consegnerà A morte Il Fratello E Il Padre E Il Figlio E I Figli Insorgeranno Contro I Genitori E Li Faranno Morire E Sarete Odiati Da Tutti Chi A A Causa Del Mio Nome Ma Chi Avrà Perseverato Fino Alla Fine Sarà Salvato Ora Quando Vi Perseguiteranno In Una Città Fuggite In Un'altra Perché In Verità Vi Dico Che Non Avrete Finito Di Percorrere Le Città D'Israele Prima Che Venga Il Figliuolo Dell'uomo Il Discepolo Non È Da Più Del Maestro Né Il Servo Da Basta Al Discepolo Di Essere Come Il Suo Maestro E Al Servo Come Il Suo Padrone Se Hanno Chiamato Il Padrone Di Casa Belzebù Quanto Più Chiameranno Così Quelli Di Casa Sua Non Li Temete Dunque Poiché Non C'è Nulla Di Nascosto Che Non Debba Essere Rivelato E Nulla Di Segreto Che Non Debba Essere Conosciuto Quello Che Io Dettovi All'orecchio Predicatelo Sui Tetti E Non Temete Coloro Che Uccidano Il Corpo Ma Che Non Possano Uccidere L'anima Temete Piuttosto Colui Che Può Far Per Per L'anima E Il Corpo Nella Geenna Non Si Vendano Forse Due Passeri Per Un Soldo E Pure Neanche Uno Di Loro Cade A Terra Senza Il Volere Del Padre Vostro Ma Quanto A Voi Perfino I Capelli Del Vostro Capo Sono Tutti Contati Non Temete Dunque Voi Siete Da Più Di Molti Passeri Chiunque Perciò Mi Riconoscerà Davanti Agli Uomini Io Pure Lo Riconoscerò Davanti Al Padre Mio Che Ne Cieli Ma Chiunque Mi Rinnegherà Davanti Agli Uomini Io Pure Lo Rinnegherò Davanti Al Padre Mio Che È Nei Cieli Non Pensate Che Io Sia Venuto A Mettere Pace Sulla Terra Non Sono Venuto A Mettervi La Pace Ma La Spada Perché Io Sono Venuto A Mettere Disaccordo Fra Figlio E Padre Fra Figlia E Madre Fra Nuore Suocera E I Nemici Dell'uomo Saranno Quelli Di Casa Sua Chi Ama Padre O Madre Più Di Me Non E Non È Degno Di Me E Chi Non Prende La Sua Croce E Non Viene Dietro A Me Non È Degno Di Me Chi Avrà Trovato La Sua Vita La Perderà Ma Chi Avrà Perduto La Sua Vita Per Causa Mia La Ritroverà Chi Riceve Voi Riceve Me E Chi Riceve Me Riceve Colui Che Mi Ha Mandato Chi Riceve Un Profeta Nel Nome Di Un Profeta Riceverà Un Premio Da Profeta E Chi Riceve Un Giusto Nel Nome Di Un Giusto Riceverà Un Premio Da Giusto E Chiunque Darà Da Bere Anche Un Solo Bicchiere D'acqua Fredda A Uno Di Questi Piccoli Nel Nel Nome Di Un Discepolo In Verità Vi Dico Che Egli Non Perderà Affatto Il Suo Premio Matteo Capitolo Undicesimo Ed avvenne che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi dodici discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro? E Gesù rispondendo disse loro, Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, e gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, e i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Or commessi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni, Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma per chi andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto, Ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcun maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Or, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza, e dei violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono, Vi abbiamo suonato il flauto, e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti, e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo, e dicono, Ha un demonio. È venuto il figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo, e dicono, Ecco un mangiatore ed un veone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere. Allora egli prese a rimproverare le città, nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. In quel tempo Gesù prese a dire, Io ti rendo l'odeo, Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nieno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e nieno conosce appieno il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Ed ora leggiamo Matteo, capitolo dodicesimo In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i Suoi discepoli ebbero fame e presero a svellare delle spighe ed a mangiare. E i farisei, veduto sciogli, dissero, Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato. Ma egli disse loro, Non avete voi letto quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? E come egli entrò nella casa di Dio, e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui, né a quelli che erano con lui, ma i soli sacerdoti? Ovvero, non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Or io vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del tempio, e se sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, voi non avreste condannato gli innocenti, perché il figliuolo dell'uomo è signore del sabato. E partitosi di là, venne nella loro sinagoga. Ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, al fin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda, Egli è lescito far delle guarigioni in giorno di sabato? Ed egli disse loro, Chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la traga fuori? Or quant'è un uomo da più d'una pecora? È dunque lescito di far del bene in giorno di sabato. Allora disse a quell'uomo, Stendi la tua mano. E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei usciti tennero consiglio contro di lui, col fine di farlo morire. Ma Gesù saputolo si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore, che ho scelto il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia affatto trionfare la giustizia, e nel nome di lui le genti spereranno. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, tal che il muto parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano, Non è costui il figliuolo di Davide? Ma i farisei udendo ciò dissero, Costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebub, il principe dei demoni. E Gesù conosciuti i loro pensieri, disse loro, Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto. E ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano, i vostri figliuoli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo, sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo, né in quello avvenire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo dà bene dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico, che d'ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli, Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Ma egli rispose loro, Perché questa generazione malvage e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona? Poiché come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così sarà il figliuolo dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti. E niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è più che Salomone. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi arridi, cercando riposo, e non lo trova. Allora dice, Ritornerò nella mia casa adonde sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendonquivi di mora, e l'ultima condizione di codestuomo diven peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. Ed uno gli disse, Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava, Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli? E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse, Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre. Matteo, capitolo tredicesimo In quel giorno Gesù, uscito di casa, si posse a sedere presso al mare, e molte turbe si radunarono attorno a lui, tal che egli, montato in una barca, vi sedette, e tutta la moltitudine stava alla riva. Ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo, Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, poiché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu riarsa, perché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e un'altra cadde nella buona terra, e portò frutto, dando qual cento, qual sessanta, qual trenta per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli accostati si gli dissero, Perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro, Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non odono, e non intendono. E s'adempia in loro la profezia di Isaia, che dice, Udrete coi vostri orecchi, e non intenderete? Guarderete coi vostri occhi, e non vedrete? Perché il cuore di questo popolo s'è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e Dio non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché veggano ai vostri orecchi, perché odono, poiché in verità io vi dico, che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete, e non le videro, e di udire le cose che voi udite, e non le udirono. Voi dunque ascoltate, che cosa significhi la parabola del seminatore? Tutte le volte che uno ode la parola del regno, e non la intende, viene il maligno, e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola, e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola, è subito scandalizzato. E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine, è colui che ode la parola. Poi le cure mondane, e l'inganno delle ricchezze, affogano la parola, e così riesce infruttuosa. Ma quei che hanno ricevuto la semenza in buona terra, è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il cento, l'altro il sessanta, e l'altro il trenta. Ed egli propose loro un'altra parabola, dicendo, Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano, e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli, Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è zizzania? Ed egli disse loro, Un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero, Vuoi tu che andiamo a cogliere? Ma egli rispose, No, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambe due crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori, Cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Egli rispose loro un'altra parabola, dicendo, Il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è bene il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengano a ripararsi fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola, Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe e senza parabola non diceva loro nulla affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta, aprirò in parabole la mia bocca e sporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù lasciate le turbe tornò a casa e i suoi discepoli gli saccostarono dicendo spiegaci la parabola delle zizzani del campo ed egli rispondendo disse loro colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo il campo e il mondo la buona semenza sono i figliuoli del regno le zizzani sono i figliuoli del maligno il nemico che le ha seminate è il diavolo la mietitura è la fine dell'età presente i mietitori sono gli angeli come dunque si raccolgono le zizzani e si bruciano col fuoco così avverrà la fine dell'età presente il figliuolo dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li cetteranno nella fornace del fuoco qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro chi ha orecchi oda il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde per l'allegrezza che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran prezzo se ne è andato ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata il regno dei cieli è simile anche a una rete che gettata in mare ha raccolto ogni sorta di pesci quando è piena i pescatori la tragano a riva e postesi a sedere raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non val nulla così avverrà alla fine dell'età presente verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti e avete inteso tutte queste cose essi gli risposero sì allora disse loro per questo ogni scriba maestrato nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie or quando Gesù ebbe finito queste parabole partì di là e recatosi nella sua patria li ammaestrava nella loro sinagoga tal che stupivano e dicevano onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti non è questo il figliuolo del falegname sua madre non si chiama la Maria e i suoi fratelli Giacomo Giuseppe Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi donde dunque vengano a lui queste cose e si scandalizzavano di lui ma Gesù disse loro un profeta non è sprezzato che nella sua patria in casa sua e non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità Vangelo di Matteo capitolo quattordicesimo in quel tempo erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori costui e Giovanni Battista egli è risuscitato dai morti e però agiscono in lui le potenze miracolose perché Erode fatto arrestare Giovanni lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada moglie di Filippo suo fratello perché Giovanni gli diceva non te è lecito d'averla e benché desiderasse farlo morire temette il popolo che lo teneva per profeta or come si celebrava il giorno natalizio di Erode la figliuola di Erodiada ballò nel cospetto e piacque ad Erode onde egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe ed ella spintavi da sua madre disse dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista e il re ne fu contristato ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre e i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono poi vennero a darne la nuova a Gesù udito ciò Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto in disparte e le turbe saputolo lo seguitarono a piedi dalle città e Gesù smontato dalla barca vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi or facendosi sera i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero il luogo è deserto e l'ora è già passata licenza dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare ma Gesù disse loro non hanno bisogno d'andarsene datelor voi da mangiare ed essi gli dissero non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci ed egli disse portatemeli qua ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba prese i cinque pani e i due pesci e levati gli occhi al cielo rese grazie poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe e tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati dodici ceste piene e quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini oltre le donne e i fanciulli subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva mentre gli licenzierebbe le turbe e licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare e fatto sì sera era qui vi tutto solo frattanto la barca già di molti stadi lontana da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma e dalla paura gridarono ma subito Gesù parlò loro e disse state di buon animo son io non temete e Pietro gli rispose signore se sei tu comandami di venire a te sulle acque ed egli disse vieni e Pietro smontato dalla barca camminò sulle acque e andò verso Gesù ma vedendo il vento ebbe paura e cominciò a sommergersi e gridò signore salvami e Gesù stessa subito la mano lo afferrò e gli disse o uomo di poca fede perché hai dubitato e quando furono montati nella barca il vento si acquetò allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo veramente tu sei il figliuolo di Dio e passati all'altra riva vennero nel paese di Genazeret e la gente di quel luogo avendolo riconosciuto mandò per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregarono che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito e tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti Matteo capitolo quindicesimo allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni degli antichi poiché non si lavano le mani quando prendono cibo ma egli rispose loro e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione Dio infatti ha detto onora tuo padre tua madre e chi maledisce padre madre sia punito di morte voi invece dite se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti e offerta a Dio egli non è più obbligato di onorare suo padre o sua madre e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione ipocriti ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il cuor loro è lontano da me ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini e chiamata a sé la moltitudine disse loro ascoltate ed intendete non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo ma quel che esce dalla bocca ecco quel che contamina l'uomo allora i suoi discepoli accostatesi gli dissero sai tu che i farisei quant'hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati ed egli rispose loro ogni pianta che il padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata lasciateli sono ciechi guide di ciechi or se un cieco guida un altro cieco ambedue cadranno nella fossa Pietro allora prese a dirgli spiegaci la parabola e Gesù disse siete anche voi tuttora privi di intendimento non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo poiché dal cuore vengono pensieri malvagi omicidi adulteri fornicazioni furti false testimonianze diffamazioni queste sono le cose che contaminano l'uomo ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo e partitosi di là Gesù si riterò nelle parti di Tiro e di Sidone e quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare abbi pietà di me signore figliuolo di Davide la mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio ma egli non le rispose parola ed i suoi discepoli accostatesi lo pregavano dicendo licenziala poiché ci grida dietro ma egli rispose io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele e la però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo signore aiutami ma egli rispose non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini ma ella disse dici bene signore eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni allora Gesù le disse o donna grande è la tua fede ti sia fatto come vuoi e da quell'ora la sua figliuola fu guarita partitosi di là Gesù venne presso al mar di Galilea e salito sul monte si pose quivi a sedere e gli si accostarono delle turbe che avevan seco degli zoppi e dei ciechi e dei muti e degli storpi e molti altri malati e li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì tal che la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano che gli storpi erano guariti che gli zoppi camminavano che i ciechi vedevano e ne dette gloria all'iddio di Israele e Gesù chiamati a sé i suoi discepoli disse io ho pietà di questa moltitudine perché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare e non voglio rimandare i digiuni che talora non vengano meno per via e i discepoli gli dissero dove potremmo noi prendere dei pani in questo deserto per saziare così gran folla e Gesù disse loro quanti pani avete ed essi risposero sette e pochi pescetti allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra poi prese i sette pani ed i pesci e dopo averle se grazie li spezzò e diede ai discepoli e discepoli alle folle e tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati si levarono sette panieri pieni or quelli che avevano mangiato erano quattromila persone senza contare le donne e i fanciulli e licenziate le turbe Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magadan Vangelo di Matteo capitolo sedicesimo e accostatesi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo ma egli rispondendo disse loro quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo l'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non arrivate a discernerli questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona e lasciateli se ne andò or i discepoli passati all'altra riva si erano dimenticati di prendere dei pani e Gesù disse loro vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei e sì ragionavano fra loro e dicevano e gli è perché non abbiamo preso dei pani ma Gesù accorto se ne disse o gente di poca fede perché ragionate fra voi del non aver dei pani non capite ancora e non vi ricordate dei cinque pani e dei cinque mila uomini e quante ceste ne levaste né dei sette pani e dei quattromila uomini e quanti panieri ne levaste come mai non capite che non è di pani che io vi parlo ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei allora intesero che non aveva lor detto di guardarsi dal lievito del pane ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei poi Gesù venuto dalle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo ed essi risposero gli uni dicono Giovanni il Battista altri Elia altri Geremia o uno dei profeti ed egli disse loro e voi chi dite che io sia Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo il figliuolo dell'iddio vivente e Gesù replicando gli disse tu sei beato o Simone figliuolo di Giona perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli io altresì ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'ades non la potranno vincere io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che gli era il Cristo da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno e Pietro trattolo da parte cominciò a rimproverarlo dicendo tolga sciò i Dio Signore questo non ti avverrà mai ma Gesù rivolto si disse a Pietro vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini allora Gesù disse ai suoi discepoli se uno vuol venire dietro a me rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà e che gioverà egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua o che darà l'uomo in cambio dell'anima sua poiché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua in verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno vangelo di matteo capitolo dicesettesimo sei giorni dopo Gesù prese seco Pietro Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte indisparte e fu trasfigurato dinanzi a loro e la sua faccia risplendè come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù signore gli è bene che stiamo qui se vuoi farò qui tre tende una per te una per Mosè ed una per Elia mentre egli parlava ancora ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi son compiaciuto ascoltatelo e i discepoli udito ciò caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore ma Gesù accostatosi li toccò e disse levatevi e non temete ed essi alzati gli occhi non videro alcuno se non Gesù tutto solo poi mentre scendevano dal monte Gesù diede loro quest'ordine non parlate di questa visione ad alcuno finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti e i discepoli gli domandarono perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia ed egli rispondendo disse loro certo Elia Elia deve venire e ristabilire ogni cosa ma io vi dico Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto così anche il figliuolo dell'uomo ad appatir da loro allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva loro parlato e quando furono venuti alla moltitudine un uomo gli si accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo signore abbi pietà del mio figliuolo perché è lunatico e soffre molto spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua l'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire e Gesù rispondendo disse oh generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi fino a quando vi sopporterò menatemelo qua e Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui e da quell'ora il fanciullo fu guarito allora i discepoli accostatosi a Gesù in disparte gli dissero perché non l'abbiamo potuto cacciare noi e Gesù rispose loro a cagione della vostra poca fede perché in verità io vi dico se avrete fede quanto un granel di senapa potrete dire a questo monte passa di qui là e passerà e niente vi sarà impossibile or questa specie di demoni non esce non mediante la preghiera e il digiuno or come si percorrevano insieme la galilea Gesù disse loro il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà ed essi ne furono grandemente contristati e quando furono venuti a capernaum quelli che riscotevano le diagramme si accostarono a Pietro e dissero il vostro maestro non paga le diagramme egli rispose sì e quando fu entrato in casa Gesù lo prevenne e gli disse che te ne pare Simone i re della terra da chi prendono i tributi o il censo dai loro figliuoli o dagli stranieri dagli stranieri rispose Pietro Gesù gli disse i figliuoli dunque ne sono esenti ma per non scandalizzarli vattene al mare getta un amo prendi il primo pesce che verrà su e aprigli la bocca troverai uno startere prendilo e dallo loro per me e per te Vangelo di Matteo capitolo diciottesimo in quel mentre i discepoli si accostarono a Gesù dicendo chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli ed egli chiamato a sé un piccolo fanciullo lo posò in mezzo a loro e disse in verità io vi dico se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli non entrerete punto nel regno dei cieli chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli e chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio riceve me ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare guai al mondo degli scandali poiché è ben necessario che avvengano degli scandali ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene ora se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato mozzali e gettali via da te meglio è per te d'entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno e se l'occhio tuo te è occasione di peccato cavalo e gettalo via da te meglio è per te d'entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi ed essere gettato nella gehenna del fuoco guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del padre mio che è nei cieli poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito che vi par egli se un uomo ha cento pecore e una di queste si smarrisce non lascerà egli le novantanove sui monti per andare in cerca della smarrita e se riesce di ritrovarla in verità vi dico che si rallegrerà più di questa che delle novantanove che non si erano smarrite così è voler del padre vostro che è nei cieli che neppure un solo di questi piccoli perisca se poi il tuo fratello ha peccato contro di te va e riprendilo fra te e lui solo se t'ascolta avrai guadagnato il tuo fratello ma se non t'ascolta prendi te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni e se rifiuta ad ascoltarli dillo alla chiesa e se rifiuta ad ascoltare anche la chiesa siati come il pagano e il pubblicano io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo ed anche in verità vi dico se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi quella sarà loro concessa dal padre mio che è nei cieli poiché dovunque due o tre sono raunati nel mio nome qui vi sono io in mezzo a loro allora Pietro accostatosi gli disse signore quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io fino a sette volte e Gesù a lui io non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori e avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti e non avendo egli di che pagare il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli e tutto quello che aveva e che il debito fosse pagato onde il servitore gettatosi a terra gli si prostrò dinanzi dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò tutto e il signore di quel servitore mosso a compassione lo lasciò andare e gli rimise il debito ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari e afferratolo lo strangolava dicendo paga quel che devi onde il conservo gettatosi a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò ma colui non volle anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito or i suoi conservi veduto il fatto ne furono grandemente contristati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse malvagio servitore io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti non dovevi anche tu aver pietà del suo conservo come ebbe anch'io pietà di te e il suo signore dirato lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva così vi farà anche il padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello Matteo capitolo dicenovesimo ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea oltre il Giordano e molte turbe lo seguirono e quivi guarì i loro malati ed i farisei s'accostarono a lui tentandolo e dicendo egli è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie ed egli rispondendo disse loro non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne tal che non sono più due ma una sola carne quello dunque che i Dio ha congiunto l'uomo non separi essi gli dissero perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via Gesù disse loro fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli ma da principio non era così ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra commette adulterio i discepoli gli dissero se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna non conviene di prendere moglie ma egli rispose loro non tutti sono capaci di praticare questa parola ma quelli soltanto ai quali è dato poiché vi sono degli enucchi i quali sono nati così dal seno della madre vi sono degli enucchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini e vi sono degli enucchi i quali si sono fatti enucchi da sé a cagione del regno dei cieli chi è in grado di farlo lo faccia allora gli portarono dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse ma i discepoli sgridarono coloro che gli li presentavano Gesù però disse lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me perché di tali è il regno dei cieli e impose loro le mani e si partì di là ed ecco un tale che gli si accostò e gli disse maestro che farò io di buono per avere la vita eterna e Gesù gli rispose perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono uno solo è il buono ma se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti quali gli chiese colui e Gesù rispose questi non uccidere non commettere adulterio non rubare non der falsa testimonianza onora tuo padre tua madre amo il tuo prossimo come te stesso e il giovane a lui tutte queste cose le ho osservate che mi manca ancora Gesù gli disse se vuoi essere perfetto va vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli poi vieni e seguitami ma il giovane udita questa parola se ne andò contristato perché aveva di gran beni Gesù disse ai suoi discepoli io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli e da capo vi dico è più facile ad un cammello passare per la cruna ad un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio i suoi discepoli udito questo sbigottirono forte e dicevano chi dunque può essere salvato e Gesù guardateli fisso disse loro agli uomini questo è impossibile ma a Dio ogni cosa è possibile allora Pietro replicando gli disse ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito che ne avremo dunque e Gesù disse loro io vi dico in verità che nella nuova creazione quando il figliuolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria anche voi che m'avete seguitato sederete su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figliuoli o campi per amore del mio nome ne riceverà cento volte tanti ed erederà la vita eterna ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi Matteo capitolo ventesimo poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna ed avendo convenuto con i lavoratori per un denaro al giorno li mandò nella sua vigna ed uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro andate anche voi nella vigna e vi darò quel che sarà giusto ed essi andarono poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso ed uscito verso l'undicesimo ne trovò degli altri in piazza e disse loro perché ve ne state qui tutto il giorno in operosi ed essi gli dissero perché nessuno ci ha presi a giornata e gli disse loro andate anche voi nella vigna poi fatto si sera il padrone della vigna disse al suo fattore chiama i lavoratori e paga loro la mercede cominciando dagli ultimi fino ai primi allora venuti quelli dell'undicesima ora ricevettero un denaro per uno e venuti i primi pensavano di ricevere di più ma ricevettero anch'essi un denaro per uno e ricevuto lo mormoravano contro al padrone di casa dicendo questi ultimi non han fatto che un'ora e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata il caldo ma egli rispondendo ad un di loro disse amico io non ti fo alcun torto non convenisti meco per un denaro prendi il tuo e vattene ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te non m'è lecito di fare del mio ciò che io voglio o vedi tu di malocchio che io sia buono così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi poi Gesù stando per salire a Gerusalemme trasse da parte i suoi discepoli e camminando facendo disse loro ecco noi saliamo a Gerusalemme il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso ma il terzo giorno risusciterà allora la madre dei figliuoli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figliuoli prostrandosi e chiedendogli qualche cosa ed egli le domandò che vuoi ed egli disse ordina che questi miei due figliuoli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno e Gesù rispondendo disse voi non sapete quel che chiedete potete voi bere il calice che io sto per bere essi gli dissero sì lo possiamo egli disse loro voi certo berrete il mio calice ma quant'è al sedervi a destra o a sinistra non è a me il darlo ma è per quelli a cui è stato preparato dal padre mio e i dieci udito ciò furono indignati contro i due fratelli ma Gesù chiamateli a sé disse voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano potestà sopra di esse ma non è così tra voi anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti e come usciva andagerico una gran moltitudine lo seguì ed ecco che due ciechi seduti presso la strada avendo udito che Gesù passava si misero a gridare abbi pietà di noi signore figliuolo di Davide ma la moltitudine li sgridava perché tacessero essi però gridavano più forte abbi pietà di noi signore figliuolo di Davide e Gesù fermatosi li chiamò e disse che volete che io vi faccia ed essi signore che saprano gli occhi nostri allora Gesù mosso a pietà toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono Vangelo di Matteo capitolo ventunesimo e quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Bet Fage presso al monte degli olivi Gesù mandò due discepoli dicendo andate nella borgata che è di rimpetto a voi e subito troverete un'assina legata e un puledro con essa scioglieteli e menatemeli e se alcuno vi dice qualcosa direte che il signore ne ha bisogno e subito li manderà or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta dite alla figliuola di Sion ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'assina e un asinello puledro d'assina e i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato menarono l'assina e il puledro vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere e la maggior parte della folla stese e i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano osanna al figliuolo di Davide benedetto colui che viene nel nome del Signore osanna nei luoghi altissimi ed essendo egli entrato in Gerusalemme tutta la città fu commossa e si diceva chi è costui e le turbe dicevano questi è Gesù il profeta che è da Nazareth di Galilea e Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vi vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi e disse loro egli è scritto la mia casa sarà chiamata casa ad orazione ma voi ne fate una spelonca di ladroni allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò ma i capi sacerdoti e gli iscrivi vedute le meraviglie che aveva fatte e i fanciulli che gridavano nel tempio osanna al figliolo di Davide ne furono indignati e gli dissero odi tu quel che dicono costoro e Gesù disse loro sì non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei latanti ai tratto lode e lasciateli se ne andò fuori della città a Betania dove albergò e la mattina tornando in città ebbe fame e vedendo un fico sulla strada gli si accostò ma non vi trovò altro che delle foglie e gli disse mai più in eterno non nasca frutto da te e subito il fico si seccò e i discepoli veduto ciò si meravigliarono dicendo come se in un attimo seccato il fico e Gesù rispondendo disse loro io vi dico in verità se aveste fede e non dubitaste non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico ma se anche diceste a questo monte togliti di là e gettati nel mare sarebbe fatto e tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete e quando fu giunto nel tempio i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre gli insegnava e gli dissero con quale autorità fai tu queste cose e chi t'ha data cotesta autorità e Gesù rispondendo disse loro anch'io vi domanderò una cosa e se voi mi risponderete anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose il battesimo di Giovanni donde veniva dal cielo o dagli uomini ed essi ragionavano fra loro dicendo se diciamo dal cielo egli ci dirà perché dunque non gli credeste e se diciamo dagli uomini temiamo la moltitudine perché tutti tengono Giovanni per profeta risposero dunque a Gesù dicendo non lo sappiamo e anch'io gli disse loro e neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose or che vi par egli un uomo aveva due figlioli accostatosi al primo disse figliuolo va oggi a lavorare nella vigna ed egli rispondendo disse vado signore ma non vi andò e accostatosi al secondo gli disse lo stesso ma egli rispondendo disse non voglio ma poi pentitosi vi andò qualo dei due fece la volontà del padre essi gli dissero l'ultimo e Gesù a loro io vi dico in verità i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto e voi che avete veduto questo neppur poi vi siete pentiti per credere a lui udite un'altra parabola vera un padron di casa il quale piantò una vigna e fece attorno una siepe e vi scavò un luogo per spremer l'uva e vi edificò una torre poi l'alloggiò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio or quando fu vicina la stagione dei frutti mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna ma i lavoratori presi i servi uno ne batterono uno ne ucciderono e l'altro lo lapidarono da capo mandò degli altri servitori in maggior numero dei primi e coloro li trattarono nello stesso modo finalmente mandò loro il suo figliuolo dicendo avranno rispetto al mio figliuolo ma i lavoratori veduto il figliuolo dissero tra di loro costui è l'erede venite uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità e presolo lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero quando dunque sarà venuto il padrone della vigna che farà egli a quei lavoratori essi gli risposero li farà perir malmente cotesti scellerati e allogherà la vigna ad altri lavoratori i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo Gesù disse loro non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti e chi cadrà su questa pietra sarà sfragellato ed ella stritolerà colui sul quale cadrà e i capi sacerdoti e i farisei udite le sue parabole si avvidero che parlava di loro e cercavan di pigliarlo ma temettero le turbe che lo teniano per profeta vangelo di Matteo capitolo ventiduesimo e Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole dicendo il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamarli invitati alle nozze ma questi non vollero venire di nuovo mandò degli altri servitori dicendo dite agli invitati ecco io ho preparato il mio pranzo i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto venite alle nozze ma quelli non curandosene se ne andarono chi ha il suo campo chi ha il suo traffico gli altri poi presi i suoi servitori li oltraggiarono e li uccisero allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e da ardere le loro città quindi disse ai suoi servitori le nozze sì sono pronte ma gli invitati non ne erano degni andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete e quei servitori usciti per le strade raunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze fu ripiena di commensali ora il re entrato per vedere quelli che erano a tavola notò quivi un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse amico come sei entrato qua senza avere un abito da nozze e costui e costui ebbe la bocca chiusa allora il re disse ai servitori legatelo mani e piedi e gittatelo delle tenebre di fuori ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti poiché molti sono i chiamati ma pochi gli eletti allora i farisei ritiratesi tennero consiglio per vederli coglierlo in un fallo nelle sue parole e gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli maestro noi sappiamo che sei verace ed insegni la via di dio secondo verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone dicci dunque che te ne pare è riescito pagare il tributo a Cesare o no ma Gesù conosciuta la loro malizia disse perché mi tentate ipocriti mostratemi la moneta del tributo ed essi gli porsero un denaro ed egli domandò loro di chi è questa effigie e questa iscrezione e gli risposero di Cesare allora egli disse loro rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ed essi udito ciò si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono in quelli stesso giorno vennero a lui dei sadducei i quali dicono che non verra resurrezione e gli domandarono maestro Mosè ha detto se uno muore senza figliuoli il fratello del suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello or verano fra di noi sette fratelli il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie al suo fratello lo stesso fece pure il secondo poi il terzo fino al settimo infine dopo tutti morì anche la donna alla risurrezione dunque di quale dei sette sarà e la moglie poiché tutti l'hanno avuta ma Gesù rispondendo disse loro voi errate perché non conoscete le scritture e nella potenza di Dio perché alla risurrezione ne si prende ne si dà moglie ma i risorti sono come angeli nei cieli quanto poi alla risurrezione dei morti non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse io sono l'iddio di Abramo l'iddio di Isacco e l'iddio di Ciacobbe egli non è l'iddio dei morti ma dei viventi e le turbe udite queste cose stupivano della sua dottrina or i farisei udito che gli aveva chiuso la bocca ai sadducei si raunarono insieme ed uno di loro dottore della legge gli domandò per metterlo alla prova maestro qual è nella legge il gran comandamento e Gesù gli disse ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua e con tutta la mente tua questo è il grande e il primo comandamento il secondo è simile ad esso ed è ama il tuo prossimo come te stesso da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti ora essendo i farisei raunati Gesù li interrogò dicendo che vi par egli del Cristo di chi è egli figliuolo essi gli dissero di Davide ed egli a loro come dunque Davide parlando per lo spirito lo chiama Signore dicendo il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi se dunque Davide lo chiama Signore come egli suo figliuolo e nessun poteva replicargli parola e da quel giorno nessuno ardi più interrogarlo Matteo capitolo ventitreesimo allora Gesù parlò alle turbe ai Suoi discepoli dicendo gli scribi e i farisei seguono sulla cattedra di Mosè fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno ma non fate secondo le opere loro perché dicono e non fanno difatti legano dei pesi gravi li mettano sulle spalle della gente ma loro non li vogliono muovere neppure col dito tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoge e i saluti nelle piazze ed esser chiamati dalla gente maestro ma voi non vi fate chiamare maestro perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre perché uno solo è il padre vostro quello che è nei cieli e non vi fate chiamare guide perché una sola è la vostra guida il Cristo ma il maggiore fra voi sia il vostro servitore e chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato ma guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente poiché ne vi entrate voi ne lasciate entrare quelli che cercano di entrare guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni perciò riceverete maggior condanna guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi guai a voi guide cieche che dite se uno giura per il tempio non è nulla ma se giura per l'oro del tempio resta obbligato stolti e ciechi poiché qual è maggiore l'oro o il tempio che santifica l'oro e se uno voi dite giura per l'altare non è nulla ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato ciechi poiché qual è maggiore l'offerta o l'altare che santifica l'offerta chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra e chi giura per il tempio giura per esso e per colui che l'abita e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge il giudizio e la misericordia e la fede queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciarle altre guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché nettate il di fuori del calice e del piatto mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza fariseo cieco netta prima il di dentro del calice e del piatto affinché anche il di fuori diventi netto guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di mordi e d'ogni immondizia così anche voi di fuori apparite giusti alla gente ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché edificate i sepolcri a profeti e adornate le tombe dei giusti e dite se fossimo stati ai dì dei nostri padri non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti e voi colmate pure la misura dei vostri padri serpenti razza di vipere come scamperete dal giudizio della Geenna perciò ecco io vi mando dei profeti e dei savi e degli scrivi di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce altri ne fragellerete nelle vostre sinagoge e le perseguiterete di città in città affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria figliuolo di Barachia che voi uccideste fra il tempio e l'altare io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione oh Gerusalemme Gerusalemme che uccidi i profeti e i lapidi quelli che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta poiché vi dico che d'ora innanzi non mai non vedrete più finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore Matteo capitolo ventiquattresimo e come Gesù usciva dal tempio e se ne andava i suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifizi del tempio ma egli rispose loro vedete tutte queste cose io vi dico in verità non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata e stando egli seduto sul monte degli olivi i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo dici quando s'avvereranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente e Gesù rispondendo disse loro guardate che nessuno vi seduca poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti or voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre guardate di non turbarvi perché bisogna che questo avvenga ma non sarà ancora la fine poiché si leverà nazione contro nazione regno contro regno e ci saranno carrestie e terremoti in vari luoghi ma tutto questo non sarà che principio di dolori allora vi getteranno in tribolazione vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti perché l'iniquità sarà molteplicata la carità dei più si raffredderà ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato e questo vangelo del regno sarà predicato per tutto il mondo onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in un luogo santo chi legge ponga vimente allora quelli che saranno nella giudea fugano ai monti chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in cassa sua e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste or guai alle donne che saranno incinte da quelle che allatteranno in quei giorni e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non v'è stata uguale dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà e se quei giorni non fossero stati abbreviati nessuno scamperebbe ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati allora se alcun vi dice il cristo eccolo qui eccolo là non lo credete perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodici da sedurre se fosse possibile anche gli eletti ecco ve l'ho predetto se dunque vi dicono eccolo e nel deserto non v'andate eccolo e nelle stanze interne non lo credete perché come il lampo esce dal levante e si vede vino apponente così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo dovunque sarà il carname qui vi si raduneranno le aquile or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate e allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli or imparate dal fico questa similitudine quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie voi sapete che l'estate è vicina così anche voi quando vedrete tutte queste cose sappiate che egli è vicino proprio alle porte io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avverate il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli dei cieli neppure il figliuolo ma il padre solo e come fu ai giorni di Noè così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo infatti come nei giorni innanzi il diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie e si andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo allora due saranno nel campo l'uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno al mulino una sarà presa e l'altra lasciata vegliate dunque perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire ma sappiate questo che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire veglierebbe e non lascerebbe forzarla a sua casa perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto al suo tempo beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato io vi dico in verità che lo costitirà su tutti i suoi beni ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpe di flagello e gli assegnerà la sorte dell'ipocriti ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti vangelo di matteo capitolo venticinquesimo allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali presero le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo or cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevan preso dell'olio nei vasi or tardando lo sposo tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono e sulla mezzanotte si levò un grido ecco lo sposo uscite l'incontro allora tutte quelle vergini si destarono acconciarono le loro lampade e le stolte dissero alle avvedute dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono ma le avvedute risposero no che talora non basti per noi e per voi andate piuttosto dai venditori e compratevene ma mentre quelle andavano a comprarne arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entraron con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso all'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo signore signore aprici ma egli rispondendo disse io vi dico in verità non vi conosco vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora poiché avverrà come di un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni e ad uno diede cinque talenti a un altro due e a un altro uno a ciascuno secondo la sua capacità e partì ma subito colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque parimenti quello che dei due ne guadagnò altri due ma colui che ne aveva ricevuto uno andò e fatta una buca in terra vi nascose il denaro del suo padrone or dopo molto tempo ecco il padrone di quei servitori a fare conti con loro e colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti dicendo signore tu m'affidasti cinque talenti ecco ne ho guadagnati altri cinque e il suo padrone gli disse va bene buon e fedel servitore se stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gloria del tuo signore poi presentatosi anche quello dei due talenti disse signore tu m'affidasti due talenti ecco ne ho guadagnati altri due e il suo padrone gli disse va bene buono e fedele al servitore se stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gloria del tuo signore poi accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo disse signore io sapevo che tu sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sotto terra eccoti il tuo e il suo padrone rispondendo gli disse servo malvagio ed infingardo tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso dovevi dunque portare il mio denaro ai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti poiché a chiunque ha sarà dato e li sovrabbanderà ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e quel servitore disutile gettatelo nelle tenebre di fuori ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti or quando il figliuolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria avendo seco tutti gli angeli allora sederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra allora il re dirà a quelli della sua destra venite voi i benedetti del padre mio eredate il regno che ve stato preparato sin dalla fondazione del mondo perché ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi deste da bere fui forestiere e mi accoglieste fui ignudo e mi rivestiste fui infermo e mi visitaste fui in prigione e veniste a trovarmi allora i giusti gli risponderanno signore quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare o aver sete e t'abbiam dato da bere quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiamo accolto o ignudo e t'abbiamo vestito quando mai t'abbiamo veduto infermo o in prigione siamo venuti a trovarti e il re rispondendo dirà loro in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me allora dirà anche a coloro della sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare ebbi sete e non mi deste da bere fui forestiere e non mi accoglieste in nudo e non mi rivestiste in fermo ed in prigione e non mi visitaste allora anche questi gli risponderanno dicendo signore quando t'abbiamo veduto aver fame o sete o essere forestiere o in nudo o in fermo o in prigione e non t'abbiamo assistito allora risponderà loro dicendo in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi non l'avete fatto neppure a me e questi se ne andranno a punizione eterna ma i giusti a vita eterna matteo capitolo ventiseesimo ed avvenne che quando gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti disse ai suoi discepoli voi sapete che fra due giorni è la pasqua e il figliuolo dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto Caiafa e deliberarono nel loro consiglio di pigliar Gesù con inganno e di farlo morire ma dicevano non durante la festa perché non accada un tumulto nel popolo ora essendo Gesù in Betania in casa di Simone il lebroso venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola veduto sciò i discepoli furono indignati e dissero a che questa perdita poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri ma Gesù accorto se ne disse loro perché date noia a questa donna e la ha fatto un'azione buona verso di me perché i poveri li avete sempre con voi ma me non mi avete sempre poiché Costei versando quest'olio sul mio corpo l'ha fatto in vista della mia sepoltura in verità vi dico che per tutto il mondo dovunque sarà predicato questo evangelo anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei allora uno dei dodici detto giù da Iscariot andò dai capi sacerdoti e disse loro che mi volete dare e io ve lo consegnerò ed essi gli contarono trenta sicli d'argento e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo or il primo giorno degli azzimi i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua ed egli disse andate in città dal tale e ditegli il Maestro dice il mio tempo è vicino farò la Pasqua da te coi miei discepoli e i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua e quando fu sera si misi a tavola coi dodici discepoli e mentre mangiavano disse in verità io vi dico uno di voi mi tradirà ed essi grandemente attristati cominciarono a dirgli ad uno ad uno sono io quello signore ma egli rispondendo disse colui che ha messo con me la mano nel piatto quello mi tradirà certo il figliuolo dell'uomo se ne va come scritto di lui ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito meglio sarebbe per contestuomo se non fosse mai nato e Giuda che lo tradiva apprese a dire sono io quello maestro e Gesù a lui l'hai detto or mentre mangiavano Gesù prese del pane e fatta la benedizione lo ruppe e dandolo ai suoi discepoli disse prendete mangiate questo è il mio corpo poi preso un calice e rese grazie e lo diede loro dicendo bevetene tutti poiché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per la rimissione dei peccati io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del padre mio e dopo che ebbero cantato l'inno uscirono per andare al monte degli olivi allora Gesù disse loro questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta poiché è scritto io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea ma Pietro rispondendo gli disse quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta non lo sarai mai per me Gesù gli disse in verità ti dico che questa stessa notte prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte e Pietro a lui quando anche mi convenisse morirteco non però ti rinnegherò e lo stesso dissero pure tutti i discepoli allora Gesù venne con loro in un podere detto Gesemani e disse ai discepoli sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato e presi seco Pietro e i due figlioli di Zebedeo cominciò ad essere contristato ed angosciato allora disse loro l'anima mia è oppressa da tristezza mortale rimanete qui e vegliate meco e andato un poco innanzi si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo padre mio se è possibile passi oltre da me questo calice ma pure non come voglio io ma come tu vuoi poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro così non siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola vegliate ed orate affinché non cadiate in tentazione ben è lo spirito pronto ma la carne è debole di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo padre mio se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva sia fatta la tua volontà e tornato li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati e lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole poi venne ai discepoli e disse loro dormite pure ormai e riposatevi ecco l'ora è giunta e il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori levatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino e mentre parlavano ancora ecco arriva Giuda uno dei dodici con lui una gran turba con spade bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo quello che bacerò è lui pigliatelo e in quell'istante accostatosi a Gesù gli disse ti saluto maestro e gli dette un lungo bacio ma Gesù gli disse amico affarche sei tu qui allora accostatosi gli misero le mani addosso e lo pressero ed ecco un di coloro che erano con lui stesa la mano alla spada la sfoderò e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio allora Gesù gli disse riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada credi tu forse che io non potrei pregare il padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di dodici legioni di angeli e come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quale bisogna che così avvenga in quel punto Gesù disse alle turbe voi siete usciti con spade bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non m'avete preso ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti allora tutti i discepoli lasciatolo se ne fuggirono or quelli che avevano preso Gesù lo benarono a caiafa sommo sacerdote presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani e Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero alla corte del sommo sacerdote ed entrato dentro si fosse a sedere con le guardie per vedere la fine ora i capi sacerdoti e tutto il sinedio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni finalmente se ne fecero avanti due che dissero costui ha detto io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni e il sommo sacerdote elevatosi in piedi gli disse non rispondi tu nulla che testimoniano costoro contro a te ma Gesù tasceva e il sommo sacerdote gli disse ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo il figliuolo di Dio Gesù gli rispose tu l'hai detto anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo egli ha bestemmiato che bisogno abbiamo più di testimoni ecco ora avete udita la sua bestemmia che ve ne pare ed essi rispondendo dissero erreo di morte allora li sputarono in viso e gli dettero dei pugni ed altri lo schiaffeggiarono dicendo oh Cristo profeta indovinaci chi t'ha percosso Pietro intanto stava seduto fuori nella corte e una serva gli si accostò dicendo anche tu eri con Gesù il Galileo ma egli lo negò davanti a tutti dicendo non so quel che tu dica e come fu uscito fuori nell'antiporto un'altro lo vide e disse a coloro che erano qui vi anche costui era con Gesù Nazareno ed egli da capo lo negò giurando non conosco quell'uomo di lì a poco gli astanti accostatisi dissero a Pietro per certo tu pure sei di quelli perché anche la tua parlata ti dà a conoscere allora egli cominciò ad imprecare ad ingiuriare non conosco quell'uomo e in quell'istante il gallo cantò Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto prima che il gallo canti tu mi rinegherai tre volte e uscito fuori pianse amaramente Matteo capitolo ventisettesimo poi venuta la mattina tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire e legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore allora Giuda che l'aveva tradito vedendo che Gesù era stato condannato si pentì e riportò i trenta sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani dicendo ho peccato tradendo il sangue innocente ma essi dissero che ci importa pensaci tu ed egli lasciati i sicli nel tempio si allontanò e andò ad impiccarsi ma i capi sacerdoti presi quei sicli d'argento dissero non è lecito metterli nel tesoro delle offerte perché son prezzo di sangue e tenuto consiglio comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servire da sepoltura ai forestieri perciò quel campo fin al dì d'oggi è stato chiamato campo di sangue allora sadempì quel che fu detto dal profeta Geremia e presero i trenta sicli d'argento prezzo di colui che era stato messo a prezzo messo a prezzo dai figlioli di Israele e li dettero per il campo del vasaio come l'aveva ordinato il Signore or Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo sei tu il re dei giudei e Gesù gli disse sì lo sono e accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla allora Pilato gli disse non odi tu quante cose testimoniano contro di te ma egli non gli rispose neppure una parola tal che il governatore se ne meravigliava grandemente or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato qualunque ella volesse avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba ed essendo dunque radunati Pilato domandò loro chi volete che vi liberi Barabba o Gesù detto il Cristo poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia or mentre egli sedeva in tribunale la moglie gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù e il governatore prese a dir loro quale due volete che vi liberi e quelli dissero Barabba e Pilato a loro che farò dunque di Gesù detto Cristo e tutti risposero sia crocifisso ma pure riprese egli che male ha fatto ma quelli vi più gridavano sia crocifisso e Pilato vedendo che non riusciva a nulla ma che si sollevava un tumulto prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto pensateci voi e tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli allora e gli liberò loro barabba e dopo aver fatto fragellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso allora i soldati del governatore tratto Gesù nel pretorio radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli missero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella man destra e inginocchiatesi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei e sputandogli addosso presero la canna e gli percotevano il capo e dopo averlo scarnito lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti poi lo menarono via per crocifiggerlo or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù e venuti ad un luogo detto Golgota che vuol dire luogo del teschio gli dettero a bere del vino mescolato con fiele ma Gesù assaggiatolo non volle berne poi dopo averlo crocifisso spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte e postisi a sedere gli facevano quivi la guardia e al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna questo è Gesù il re dei giudei allora furono con lui crocifissi due ladroni uno a destra e l'altro a sinistra e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo tu che disfai il tempio in tre giorni lo riedifichi salva te stesso se tu sei il figliolo di Dio scendi giù di croce e similmente i capi sacerdoti con gli scrivi e gli anziani beffandosi dicevano ha salvato altri e non può salvare se stesso da che è il re di Israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui se è confidato in Dio lo liberi ora se lo gradisce perché ha detto sono figliuolo di Dio e nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui or dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce e lì e lì lama sabachthani cioè Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato ma alcuni degli astanti udito ciò dicevano costui chiama Elia e subito un di loro corse a prendere una spugna e inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna gli dieda bere ma gli altri dicevano lascia vediamo se Elia viene a salvarlo e Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce rendè lo spirito ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo e la terra tremò e le rocce si schiantarono e le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui entrarono nella santa città e apparvero a molti e il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù visto il terremoto e le cose avvenute temettero grandemente dicendo veramente costui era il figliuolo di Dio ora qui vi erano molte donne che guardavano da lontano le quali avean seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo tra le quali erano Maria Maddalena Maria madre di Giacomo e di Giosè e la madre dei figliuoli di Sibedeo poi fattosi sera venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe il quale era divenuto anche egli discepolo di Gesù questi presentandosi a Pilato chiese il corpo di Gesù allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato e Giuseppe preso il corpo lo involse in un lenzuolo netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò or Maria Maddalena e l'altra Maria erano qui vi sedute di rimpetto al sepolcro e l'indomani che era il giorno successivo alla preparazione i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo Signore ci siamo ricordati che quel seduttore mentre viveva ancora disse dopo tre giorni risusciterò ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno che talora i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo è risuscitato dai morti così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo Pilato disse loro avete una guardia andate e assicuratevi come credete ed essi andarono ad assicurare il sepolcro sigillando la pietra e mettendovi la guardia Matteo capitolo ventottesimo or nella notte del sabato quando già albeggiava il primo giorno della settimana Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò rotolò la pietra e vi sedette sopra il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve e per lo spavento che nebbero le guardie tremarono e remasero come morte ma l'angelo prese a dire alle donne voi non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso egli non è qui poiché è risuscitato come aveva detto venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli egli è risuscitato da morti ed ecco vi precede in Galilea qui vi lo vedrete ecco ve l'ho detto e quelle andatesene prestamente dal sepolcro con spavento e dalle grezza grande corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo vi saluto ed esse accostatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono e allora Gesù disse loro non temete andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea la mi vedranno or mentre quelle andavano ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute ed essi radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio dettero una forte somma di danaro ai soldati dicendo dite così i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo e se mai questo viene alle orecchie del governatore noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori pena ed essi preso il denaro fecero secondo le istruzioni ricevute e quel dire è stato divulgato tra i giudei fino al dì d'oggi quanto agli undici discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo l'adorarono alcuni però dubitarono e Gesù accostatosi parlo loro dicendo ogni podestà a me è stata data in cielo e sulla terra andate dunque ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre del figliuolo e dello spirito santo insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vo comandate ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente a me è Grazie a tutti.